ciao ciao a tutti da Ferdi come forse saprete chi ha seguito io poco fa ho messo online le foto del nuovo arrivo della amcov 7000s la nuova cam di gamma diciamo di top di gamma della amcov perché ora io ho pensato di fare questo video allora dobbiamo ritornare un po agli antipodi infatti nei primi tempi che questo gruppo nacque una delle prime cam di cui si incominciò a parlare in modo particolarmente diffuso fu appunto la amcov amcov 5000 nonostante avesse il suo chipset che era un sunplus 6630 questa cam si dimostrò con delle buone prestazioni anche perché fu una delle prime ad avere le stesse dimensioni e lo stesso a disposizione di comando della gopro quindi poteva usare tutti i suoi accessori case e il 90 per cento di tutti gli accessori questa ne determinò un buon successo infatti in molti penso che in molti di voi avranno avuto questa cam seguentemente questa cam si è evoluta col modello 5000s che era praticamente uguale al modello precedente solo che aveva delle prestazioni superiori per quanto riguarda le risoluzioni era stato risolto un problema che si presentava alla risoluzione di 1080 con 60 frame per secondo bene allora mi direte ferdi che cosa ci vuoi dire voglio dire che la considerazione verso questa amcov da parte di diciamo di molti eppure per me è stata sempre molto alta cioè è un è un marchio che noi almeno che io rispetto e so che non non delude non delude come come altri come hanno fatto in altri 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 insomma insomma che hanno veramente deluso invece la amcov si è sempre dimostrata nonostante non avesse un hardware eccezionale i suoi tecnici sono riusciti ad ottenere sempre delle buone prestazioni ecco qui oggi io dopo aver scartato un po' il tutti diciamo tutti la cam gli accessori averla guardata così diciamo in modo molto superficiale posso dire posso darvi una notizia che le batterie sono uguali a quelle della gopro i ro 4 sono praticamente uguali quindi si può fare riferimento a queste batterie è una buona cam ha sempre la stessa forma identica con la stessa disposizione di comandi della iro e l'unica cosa che non mi è piaciuto è il case il case subacuo che è veramente di scarsa qualità infatti i tasti si inciampano si inceppano però a questo qui si può facilmente 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 possiamo rimediare a questa cosa comprando un case dedicato per la gopro con quello con i tasti grandi e quindi si può senz'altro ovviare questo problema bene come vedete qui ora vi voglio fare vedere un versus in diretta per quanto riguarda la GIT2 che è qui sulla sinistra la vedete qui c'è la GIT2 e qui invece vediamo la la AMCOV7000S andiamo a vedere le cam la AMCOV7000S e GIT2 allora vedete già qui in questa parte qui risoluzione è più definita la la AMCOV vi lascio guardare a voi eh si senz'altro c'è una un'esposizione una sovraesposizione che non c'è nella GIT2 vedete però io guarda il mio monitor vedo più definito andiamo a vedere qui c'è un riflesso strano non so qui sovraespone il sonno di luce è in automatico su tutte e due la camera come vedete l'AMCOV7000S non è niente male veramente niente male veramente questo è un test indiretto poi indiretto scusate poi farò la recensione la sua recensione normale e quindi potremo guardare meglio tutte le funzioni questa è solo una piccola anticipazione grazie della visione bene questo è tutto allora per il momento spero che questa questa piccola fiscolo versus in anteprima vi sia piaciuto ci rivediamo ai prossimi miei video ok vi saluto ciao ciao a tutti da Ferdi ciao